Cosa ne abbiamo fatto della Pasqua del Signore? È la domanda a cui ha tentato di rispondere Don Leonardo Pinnelli nel corso dell'omelia della messa celebrata nel santuario del Santissimo Salvatore di Andrea, come sempre tradotta nella lingua dei segni. Ascoltiamo. A distanza di qualche giorno dalla celebrazione della Pasqua ci pone ancora una volta, si può leggere nel Vangelo, una domanda. Una domanda molto semplice ma che ci deve far molto riflettere. Che cosa ne abbiamo fatto oggi di questa Pasqua? Che cosa ne abbiamo fatto oggi della Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo? La risposta è questa. Ne abbiamo fatto un programma di vita. Perché se Cristo è risorto per noi e ha voluto riconsegnare a ciascuno di noi la vita, la vita eterna, noi non possiamo essere i cristiani del Venerdì Santo. Non possiamo essere coloro che si disperano. Non possiamo essere coloro che stanno sempre lì a lamentarsi, a dire che le cose non vanno bene. Non possiamo fare lo stesso gioco che ha fatto Pietro quando, seguendo il Maestro, aveva paura. E facendosi abitare dalla paura l'ha dovuto rinnegare. Questo può succedere anche a noi quando, sì, inseguiamo, seguiamo il Maestro, ma facendoci prendere dalle nostre paure, iniziamo a rinnegare il Cristo sia nella nostra vita e forse anche nella vita degli altri, con giudizi anche molto pesanti.